musica 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 cosa ci fanno le persone nel vulcano andate via musica 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 e 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 ok e 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 ok z z z e dopo mille anni che sto lì gli sparano prendo con tutti i colpi non viene da uno lui mi tira una cecchinata e poi marker anche anche l'altro non si può prendere almeno io sono guarda corre senso di dare cosa esplosa l'altro vabbè eccolo l'altro ovviamente a nove cecchini quel che fai guarda lo sta fuori uccidi dopo arriva 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 copri io fai schifo fai schifo non 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 l'hanno intato vabbè io scendo e tiro così ma che non gli ha sparato non gli ha sparato il pompa vabbè spara adesso che non deve ma tanto sono morto non so perché eh guarda quanta vita che c'ho quanto scende veloce che cacchio me ne metti 100 se scende a 2 a 2 io non lo so che cos'è questo è orribile non lo so fa schifo però lì c'è la tempesta subito qua c'è il passato non prega nessuno io ho una venda come il io ho 15 venda e 5 sciullini e due che puoi qua c'era uno sciullino non non senza io non so non lo fai il vulcano non c'è no no perfetto Trampolino Ho bisogno di tutto ciò che hai Fammi prima farle vendere prima di mettere il camp Mettila da me c'è lì Non so, adesso ti preoccupano i miei materiali Mi sento pianissimo Ho un microfono un po' lontano Sono nella casa dei privati È di tipo dal canone Ok, eccolo lì Aspetta, aspetta, prendo l'air drop Ok, ok 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 Ok Ok, ok Cambiare nove armi Sì Io ho tutte armi nell'Italia Dammi, dammi qualcosa Prenditela, dico No Ok 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 Ok, ok Ok Decisamente Poi dov'è? Tempesta Bene Cosa sta facendo? Ha rotto le palle Stocare imprendibile Ma cosa sono ste persone? A parte che ne sono esplosi Vabbè, ho capito ma non si può sprendere No, sono imprendibile Ok Ho preso due volte E lui mi ha preso Sì Ero dietro la scala Ho 38 di vita 51 a 1 Ma Fre Ma che cazzo Come cazzo giocano questi? Oh Oh Mi sto Non so Mi faccio riuscire Mi sto seriamente rompendo il Cristo Basta, basta, basta E' finito in tempesta, cretino Io mi sto actually rompendo le palle Poi, non posso più Poi non posso più Poi, non posso più Fri Fri Non mi fa più pensare Se ci vedete La situazione della prossima settimana Perché non vorrei scoprire le cose Al minimo Fri Fri Non mi fa più pensare Si Anno Zio canto guarda dov'è la safe è su polar pic no si sono uccisi quei due tipi sono si è provato di angiandare io pensavo 4 john vieni andiamo su come c'è andiamo di ecco le scuole semmiano mentre sono già lì dietro il parente stiamo qua sotto ma io sarei ancora di uno così abbiamo solo un livello sopra aspetta per pochissima anch'io per pochissima realtà finire materiali perché sarebbe un grande problema io praticamente fu ferro adesso io 859 348 e 7 600 300 929 allora allora sei ovviamente non è qui però non è nemmeno da loro è storta zia di amici subito meglio ucciso cecchino donna bravissimo quello lo è sì stiamo correndo giù un mondo delle scuole faccia si nella ice è la safe che due palle per poco saremo noi gli allai della vittoria si seremo facciano smollata marraco l'altro chiami negri siamo dove questa roba quanto può cadere ecco le accoglie stanno scendendo da una città città 150 bravissimo tiragli tutto quello che hai che stavano da loro per scendere ha battuto uno che chi è nato ovviamente era fermo da dove io continuavo a spararmi quanta di scelta all'altro con il cecchino bello easy questi qua poracci eh sì questi poverini perché scendere da lì è la merda più totale bene Grazie.